Chi vince? Loro sono dalla Germania, turisti, vai! Germania! Germania, ma quanto? Scorra? Scorra? 2, 2, 1 per Germania! Ah, 2, 2, 1! Germania vince! 7, 1! 7, 1! 7, 1! 7, 1! Dicono 7 a 1 come col Brasile, speriamo di nonso! Ok, grazie eh, arrivederci! Grazie! Benvenuti! Qui con un gruppo di turisti tedeschi, mettetevi pure di qua, eccole qua! Chiacca! Turisti da Germania, un pronostico per Italia-Germania. Italy-Germania e Prediction, cosa dici? Non, non vuole, non vuole! Vincere! Credo che il Germano vincere il gioco! In Germania, sì! Cosa risulta? La scuola? 2, 1 per Germania! 2? 2 gol! 2 gol! 2 gol! 2 gol! 2 gol! Loro perdono sempre, ma questa volta vogliono vincere! Quindi sono molto più ottimisti! Ma dal tedesco, ogni Gingiusino pure in quadro di Gingiusino! Sì! Sì! Ok! Vedrete la partita? Sì! 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 Non lo so ancora! Ma stappate casino come avete fatto la barcaggio! Perché stavolta... No, no! Non cazzo! Sì! Sì! Va bene! Quindi loro dicono che vinceranno, anche la ragazza è stata brava ha detto noi perdiamo sempre, però questa volta ce la dovremmo fare! Per voi vengono la Germania! Grazie! Sì! 3 o 2? Penalti! 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 In rigore! In rigore! 2-0! 2-0 e Boateng fa un gol! Ah! 2-1! Ah! Boateng fa un gol! Ok! Ciao! Ciao!